Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata scopiettante proprio di infinita simpatia dal vostro veterinario di quartiere ho saputo che ultimamente la gente mi accusa ingiustamente di essere attaccato ai soldi, di voler monetizzare a tutti i costi ma non è vero, anzi io sono una persona estremamente simpatica e disponibile per esempio ieri c'era una vecchietta e un difficoltavo le va a attraversare la strada le ho porso la mano e l'ho condotta dall'altro lato della strada giustamente poi una volta arrivata in salvo dall'altra parte giustamente le ho chiesto i soldi perché quando faccio una cosa giustamente io devo monetizzare, capito? io non posso stare senza soldi, capito? e lei non li aveva, ecco e quindi ho dovuto rapinarla, ecco, diciamo e in questo modo ho monetizzato ma non si può dire che non abbia fatto una buona azione anzi io sono un bravo ragazzo e sono anche bellissimo non capisco a proposito perché io, Tobi, dica che ho la testa appunto, come potete vedere la mia testa è perfettamente rotonda o per meglio dire sferica perché io ho studiato chimica, fisica io di queste cose ci capisco comunque non me la sono presa per niente per questa affermazione di Yotobi anzi non ci ho proprio pensato sì, ho fatto qualche calcolo ho preso la mia foto l'ho messa in Paint che è un programma gratis per cui non ho dovuto monetizzare per utilizzarlo, ecco e l'ho sovrapposta a un triangolo e effettivamente la forma c'entra poco, ecco però non me la prendo anzi io a me in realtà YouTube non interessa ecco, ci passo diciamo 5 minuti ecco, io tutte le cose che so le capisco leggendo in quei pochi in quella manciata di minuti che passo su YouTube che dire, che dire ragazzi insomma siete messi male ecco, siete proprio messi male io sono un mostro di simpatia veramente non ce n'è uno come me ragazzi c'è poca storia un saluto al tizio qualunque un saluto alla mamma e alla prossima puntata adesso vado a monetizzare perché vedete io qua ho sempre le mie monetine a portata di mano ma stanno scarseggiando effettivamente quindi iscrivetevi al canale e cliccate ciao belle ciao belle ciao belle ciao belle Grazie.